Quali sono le prospettive a lungo, anzi a stretto termine, visto che tra oggi e domani ci sarà una riunione, se possiamo dire quasi decisiva? Guardi, la Lega non sta facendo nulla, se non considerando quello che era successo, perché voi ricorderete tutti che il nome di Giandonato prima era uscito da una riunione fatta da partiti civici, poi il nome è uscito dai partiti e alla fine non si riusciva a trovare una quadra con tutti i partiti di coalizione, ma anche con le liste civiche di coalizione, quindi c'era questo problema e la Lega ha proposto un nome terzo che non sia comunque riconducibile né alla Lega né a nessun altro partito, ma una persona che possa essere riconducibile alla società civile, quindi è una figura terza ma nell'obiettivo di trovare una quadra di tutte le forze centrodestre, compreso le civiche che nella prima ipotesi si dichiaravano che non condividevano il progetto con il nome di Morra, questo è uscito precedentemente. Ma non è che state strizzando l'occhio anche ai 5 Stelle? No, no, strizziamo l'occhio a nessuno, anche perché i 5 Stelle hanno l'idea di andare da soli, quindi noi non ci siamo mai posti il problema. Noi riteniamo, e leggerei questo tentativo in maniera diversa, ossia il nostro tentativo è trovare un nome che possa far unire tutto il centrodestra, anche le civiche. Purtroppo prima questo non c'era, perché le civiche si erano dette contrarie a nomine Giandonato. Ma l'obiettivo della Lega sarebbe quello poi di vincere al primo turno oppure di pensare al ballottaggio? L'obiettivo della Lega, ma di qualsiasi altro partito, credo che sia quello di vincere al primo turno. Però la campagna elettorale, tutti quanti stanno parlando di percentuali, di situazioni che fanno intendere come data reale quella del 24 giugno, non quella del 10 giugno. Sì, sinceramente, però quello che ci hanno insegnato le ultime elezioni è che su carta, quando si parla di elezione, è difficile fare i conti. Quindi poi votano i cittadini e non la carta. Per cui noi tentiamo, il tentativo nostro è quello di unire la coalizione. Adesso, al di là di chi sarà il nome, ieri è uscito fuori dal tavolo, che comunque tutti e due i nomi possono creare l'unione del centro-destra, compreso le civiche. Siccome adesso è un problema politico, in questi giorni da oggi sarà un tavolo politico nazionale, in momenti in cui politicamente anche Fratelli d'Italia rivendicherà questa candidatura, chiaramente la situazione potrebbe essere diversa. Farà prima Teramo ad avere il sindaco o l'Italia ad avere un governo? Secondo me prima Teramo, perché in settimana sicuramente a Terri. Sul governo è un po' più complicato.